Com'è andata, Pier? Ah! Ah! Com'è la hai calcata? Oh, ecco. Cos'è finito, Old Pig, che non lo vedo più, Pier? C'è? Old Pig, che non lo vedo più. Ciao, ciao, ciao. Viva la stessa! Ah, benissimo! Io per un'ora d'amore, darei anche... Per un'ora d'amore, che cosa farei? Non gli vengono neanche più le cose maiale che diceva sul fondo, è talmente stanco che... E' un'ora d'amore, benissimo, c'è già tutto l'è. E' un'ora d'amore... Com'è stata questa spruga della preta? Non cagarti che anche se senti la corda che fa così... E' un po' schermo, perché poi mi faccio caso a queste cose... Ma... Ma... E' un po' schermo, perché poi... Da... E' un po' schermo... E' un po' schermo... E' un po' schermo, eh? E' un po' schermo... guarda qua, 60 anni, guardalo un po', magari se prima ti levi dal buco che ti stai sloangiando tutto lì, ma è andato uguale.